Oggi risponde al vostro quesito la psicoterapeuta Federica Guercio, segretaria dell'Ordine regionale degli psicologi. La signora Michaela di Ancona mi chiede, sono una studentessa universitaria, sono diversi mesi che non riesco ad affrontare più alcun esame, mi sento terrorizzata solo all'idea. Come posso affrontare l'ansia da esame? Non ho risorse economiche e se mi può dare un consiglio sarebbe prezioso. Michaela, certo che ti diamo un consiglio. L'ansia da esame è una condizione che preme e stressa moltissimi studenti perché la scelta di studiare all'università implica un maggiore senso di responsabilità, una capacità di autonomia, una gestione anche della propria autonomia e quindi inevitabilmente è possibile che questo generi delle ansie, la paura di non farcela, la paura di deludere le aspettative e tutta questa condizione emotiva a sua volta genera stress. E lo stress, nonostante sia una risposta adattiva che la specie ha selezionato per preservarci dai pericoli, nei casi di prestazioni e di esami non gioca un buon ruolo, anzi ci mette proprio in svantaggio, addirittura influendo in maniera negativa sulla capacità di memorizzazione. Per cui è importantissimo intanto conoscere prima i sintomi, possiamo avere segnali fisici come mal di stomaco, addirittura insonnia, agitazione anche con aumento del battito cardiaco, ma anche altri sintomi come difficoltà a concentrarsi. Per cui è importante che prima dell'esame ci si concentri su un buon piano di studi, una buona organizzazione, una sana alimentazione e la capacità di potersi dare un po' di conforto, concentrarsi appunto sugli aspetti positivi. Invece per quanto riguarda l'ansia durante l'esame, è bene farsi accompagnare per esempio da un amico per evitare di scappare insomma dalla situazione di esame e circondarsi il più possibile da persone diciamo positive, rimanere concentrati sulla risposta e soprattutto pensare e ricordarsi che l'esame non è la vita e il voto non è la propria personalità o la propria identità. Se tutto questo non funziona, il consiglio è di appunto chiedere un supporto psicologico. Molti Atenei hanno uno sportello di ascolto per studenti.